La scuola Cioè che cos'è che spinge secondo te questi bambini, queste ragazze? Spero non leveline in televisione No, decisamente no, anche perché noi come scuola nella zona ci distinguiamo soprattutto per la qualità delle lezioni che proponiamo ai ragazzi Dalla direttrice della scuola Eleonora Marconi Intanto io veramente volevo ringraziare tutti i ragazzi che senza di loro ovviamente questo spettacolo non sarebbe mai esistito Quest'anno, io lo dico ogni anno, però quest'anno abbiamo tirato la corda più del solito Cause everything's so wrong and I don't belong Living in your precious memory Cause I need you And I miss you Now I wonder if I could fall into the sky Do you think time went past me by? Now can you know I'd walk a thousand miles If I could just see you tonight? No, I don't wanna let you know I'd drown in your memory I, I don't wanna let this sky I, 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 I don't Making my way downtown Walking fast Faces past and I'm homebound Staring blankly ahead Just making my way, making a way Through the crowd And I do the drive, making a surahedшая And I still need you And I still miss you And now I wonder If I could fall into the sky Do you think time would pass us by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you If I could fall into the sky Do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you If I could just hold you tonight Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti